Allora, il mercato delle AVP sicuramente non si ferma, nonostante comunque un'incertezza politica continua. Allora, quali sono gli investimenti che state portando avanti e quanto è centrale anche il ruolo del multigame? Come hai detto giustamente tu, il mercato continua ad andare avanti. Nonostante le incertezze, ne abbiamo ancora parecchie, perché ancora oggi non sapremo come sarà la riduzione definitiva, se non nella numerica, quindi nella quantità, ma non come verrà fatta. Ma ciò nonostante gli investimenti devono continuare. Noi stiamo proseguendo la filosofia già portata avanti negli anni precedenti, cioè quella di investire sempre sul prodotto, proprio perché con la concentrazione del mercato, la riduzione dei punti vendita, siamo convinti che il prodotto e i contenuti diventeranno un key driver fondamentale per la crescita e lo sviluppo del business. Ecco, ci sono delle novità principali che voi presentate a Denada, o comunque qual è il prodotto su cui puntate di più? No, quest'anno in controtendenza credo con il mercato, per quello che abbiamo visto, noi abbiamo investito ancora di più su nuovi giochi, quindi sullo sviluppo di partnership e di nuovi accordi commerciali, portando in Enada già dieci esclusive qua all'inizio della fiera, considerando che veniamo da un mercato fermo praticamente da quasi quattro mesi e in particolare abbiamo puntato, per gli stessi motivi che dicevo poco fa, quindi per la concentrazione del numero di macchine all'interno dei punti vendita, sui multigioco che permetteranno di avere un'offerta più ampia e più diversificata, pure in presenza di un numero di macchine inferiore. Ecco, l'ultima cosa, che cosa si augura dal prossimo governo? Al prossimo governo ci auguriamo quantomeno chiarezza, quello che tutti chiediamo e vogliamo, siamo sempre stati d'accordo sul fatto che la riduzione ci debba essere, che il mercato vada razionalizzato, l'importante è avere delle regole certe, chiare e ben definite che ci permettano da imprenditori di poter studiare delle strategie e quindi continuare nel breve e nel medio periodo a poter investire e far crescere le nostre aziende.